E un buongiorno a tutti qui da Marcuccio Nota4antria Dopo tanto tempo che non riesco a fare... no, non riesco, non faccio il gameplay di BuzzBunny Lost in Time Oggi lo continueremo Bene, come abbiamo visto nell'ultimo video si è sbloccato un altro ben due livelli nel mondo del tempo dei pirati In poche parole, se non mi sbaglio, questo è il livello dove dovremmo sconfiggere Sam un'altra volta Qua ci andiamo dopo Ok Livello molto piccolo, quindi è molto semplice, quindi... Mutande, che dice? Io da piccolo pensavo di dicere mutande, non mutante Vabbè, a quel tempo io manco sapo che significavo Allora, cosa si deve fare qua? Prendere le palle di cannone e tirarle nel posto che dice... che dice qua Come vedete è un livello abbastanza facile Ok Dopo che avete colpito la nave qualche 5-6 volte dovrete andare nel piano di sotto in cui qua dovremmo prendere le carote d'oro Cosa dovete fare? Usare questo coso per respingere i barilli Io pensavo che era una specie di pergamena da piccolo, infatti dicevo, come fa a spingere con la pergamena? E' facilissimo Cazzo ti lamento Ricordate dovete pigliarlo un po' per il culo, eh Ecco qua, è già una carota fatta Ma che nome del cavolo? Ce l'ha sempre fatta della Lego? Quella della... De giocatta tipo di faccia di Castelli, la Fisher-Price... Sembrava una nave di quella Vabbò Di sicuro l'avevo trovato dal carrozzere del vicino E mi sembrava una nave un po' di merda comunque Che fortuna che c'è E così se la prende in culo per due volte Che coglione E abbiamo preso la seconda e ultima carota, mi sembra che è l'ultima Ok, bam E abbiamo battuto a Sam, tiriamo la palla così tanto E abbiamo finito brevemente questo livello Abbiamo due carote, uno rollo E' già finito, guarda Non c'è neanche piacere di gioco, non so Vabbè, meglio così Ah, re il mago che non fa mai un cazzo Ha completato questo livello Vabbè, vaffanculo Oh, la dimensione X, il livello più rompicoglione di tutto il gioco Lasciati salvi la tua posizione Anche se... Mi piace d'estetica la dimensione X anche se rompe coglione Grazie bello Ciao Grazie un cavolo Cioè che cazzo lo ringrazio se non fa mai niente, guarda Vabbò, vediamo quante carote ho, quattro Quindi ancora non posso prendere la carota Vabbè, in questo livello abbiamo finito Ci vediamo al prossimo livello Ciao a tutti da macuzzo94antria Ciao Ciao Ciao